spero che i miei consigli ti siano stati utili per ottimizzare la tua esperienza di corsa con altra hai fatto un buon allenamento sicuramente toccando tutti i punti che era necessario evidenziare in questo tipo di training adesso però non devi dimenticarti di recuperare perché ad ogni carico deve corrispondere una fase di scarico ho previsto quindi per te alcuni esercizi di stretching che in questo caso sono in versione statica quindi con tempi di esecuzione più lunghi che portino quindi a un ristoro completo delle fibre della muscolatura un arrivederci per la tua prossima esperienza con altra